Ciao ragazzi siamo tornati con gli incarichi di Fortnite, istantanea di Cerbero, quindi miti e mortali, la storia, dobbiamo riportare indietro l'artefatto a Cerbero, a casa sua insomma, quindi dopo che abbiamo la pallina ci buttiamo a cupo cancello, dovrebbe essere facilissima raga, like mentre atterriamo, mi raccomando per supportare il canale il codice creatore è sempre attivo, se lo usate non dimenticatevi di taggarli perché vi do la possibilità di ricevere premi, quindi skin, pass battaglia, gift card, quello che volete, durante i contest e le lotterie però bisogna sempre ricordarsi di usare il codice creatore, e allora stiamo a terra, dobbiamo andare al punto esclamativo raga, ok, penso che sia semplicissima, speriamo che non mi chieda nessuno, è impossibile che hanno, restituisci il manufatto, ok, missione sbloccata, vediamo se qua, questo mi dà fastidio oppure no, lo lasciamo vivere oppure no, vediamo che è da farsi, ok, è una masca di battaglia raga, e niente, ci fermiamo qui, like se non mi avete dato subito, e lo ripeto sempre raga, lo so, mi insultate sempre, ma io non me ne frego, e lo dico ogni volta, ciao!